Mirko Brunetti e la nuova fidanzata, la verità su Maika e la separazione da Perla. Scopri tutti i dettagli. Visita il sito gns247.net per seguire le ultime notizie. Mirko Brunetti e la sua presunta nuova fidanzata, le voci su una possibile storia d'amore tra lui e la tentatrice di asterisco Temptation Island asterisco, si sono diffuse dopo che la giovane ha iniziato a seguire Brunetti sui social media, subito dopo la conclusione della sua relazione con Perla. L'indizio iniziale è arrivato il 23 luglio, quando sono circolate le prime notizie di crisi tra Perla e Mirko, e Brunetti è stato avvistato in compagnia di altre due ragazze in piscina da un amico. La separazione è stata confermata pubblicamente una settimana dopo. Perla ha commentato per prima. Abbiamo tentato di ricostruire e sognare fino alla fine, lottando per un amore puro e leale che però non è bastato. Per il bene e la serenità di entrambi, abbiamo deciso di interrompere il nostro cammino insieme e proseguire ognuno per la propria strada. Mirko ha poi espresso il suo punto di vista. La nostra storia è iniziata in un contesto difficile da gestire, e per questo ho deciso di prendere tempo in silenzio. Ho rischiato di mancare di rispetto a chi mi sostiene ogni giorno, ma spero che capirete. Abbiamo cercato di ripartire da zero, basandoci su fondamenta che pensavamo indistruttibili. È difficile accettare e condividere, soprattutto quando ami qualcuno incondizionatamente e credi in un futuro insieme. Nel frattempo, i rumor su Maika suggeriscono che potrebbe avere un ruolo nel futuro di Brunetti. Dejanira Marzano ha rivelato che Maika ha iniziato a seguire Brunetti sui social, ma ha anche sottolineato che, al momento, Brunetti non ha ricambiato il follow. Non ci sarebbero flerti in corso al momento, e dopo la separazione da Perla, Mirko sta ancora prendendo tempo per sé stesso. Sarà interessante vedere se, in futuro, anche l'ex Jeffino deciderà di seguirla o se la situazione rimarrà la stessa. Attualmente, il futuro di Mirko Brunetti e la sua eventuale relazione con Maika resta incerto. Alcuni fan speculano su come la situazione potrebbe evolversi, soprattutto con l'ipotesi che la nuova frequentazione di Brunetti possa essere una semplice amicizia o qualcosa di più serio. In questo momento, Mirko sembra concentrato su se stesso e sul superare la fine della sua relazione con Perla, evitando di esporsi a nuove complicazioni sentimentali. Nel frattempo, Maika continua a essere un personaggio di interesse sui social, dove i suoi movimenti e le sue interazioni con Brunetti vengono costantemente monitorati dai follower. Nonostante il suo nuovo seguito non abbia ancora ricevuto risposta da Brunetti, l'attenzione mediatica è alta e le speculazioni non mancano. Inoltre, la separazione di Mirko e Perla ha sollevato interrogativi anche sulla vita personale di Perla, che potrebbe anch'essa essere al centro di nuove indiscrezioni e sviluppi. I fan e gli esperti del settore continuano a osservare i due ex protagonisti, chiedendosi se il nuovo capitolo della loro vita porterà a novità interessanti o a ulteriori colpi di scena. La situazione è ancora fluida e solo il tempo dirà se ci saranno ulteriori evoluzioni nelle relazioni di Brunetti e Maika, o se la situazione rimarrà invariata. I fan di Mirko e i seguaci di Asterisco Temptation Island Asterisco continueranno a seguire con attenzione ogni aggiornamento, sperando di scoprire presto ulteriori dettagli su questa intrigante vicenda. Con l'avvicinarsi della nuova edizione di Asterisco Amici Asterisco, è emerso un gossip riguardante una delle coppie formatesi nel programma, Petit e Marisol. A rompere il silenzio è stata proprio Marisol. Il cantante Petit, al secolo Salvatore Moccia, è spesso al centro dell'attenzione, anche grazie a una zia molto nota nel panorama dello spettacolo italiano, Nadia Rinaldi, attrice di successo soprattutto negli anni 90. Per il compleanno di Petit, Nadia ha scritto sui social, Amore di zia, tanti auguri di buon compleanno. Sei una persona speciale con una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni si avverino presto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste un legame di parentela tra Petit e Nadia Rinaldi. L'attrice è infatti la migliore amica della madre di Petit, Veronique. Con Veronique siamo amiche da sempre e viviamo entrambe all'Eura Roma. Quando è nato Petit, sono andata subito in ospedale per darle qualche consiglio. Lui è come un bambolotto per me. Ogni volta che lo vedo in tv, mi sciolgo e mi commuovo, ha spiegato Nadia. Questo legame ha fatto parlare di più di Petit, suscitando voci su una presunta crisi con Marisol. La ballerina, alla luce di queste speculazioni, ha deciso di chiarire la situazione. In risposta a chi chiedeva se fosse vero che si erano lasciati, Marisol ha commentato su Instagram, «Ho visto alcune notizie su Twitter, ma ci sopportiamo ancora». Ha accompagnato la dichiarazione con una foto in cui fa una smorfia verso la telecamera, mentre Petit guarda fuori dal finestrino dell'auto. Così, con un tocco di umorismo, Marisol ha messo fine alle indiscrezioni. Marisol ha continuato a sottolineare la solidità della sua relazione con Petit, rispondendo ai fan e ai follower con toni rassicuranti. «Nonostante le voci, la nostra storia continua e stiamo bene insieme», ha aggiunto nei suoi aggiornamenti social. In un post successivo, ha condiviso un momento di intimità con Petit, pubblicando una foto di entrambi durante una gita al mare. «Grazie a tutti per il vostro affetto e le vostre preoccupazioni. A volte i rumors non riflettono la realtà. Siamo felici e concentriamo le nostre energie sui progetti futuri». Inoltre, Marisol ha approfittato dell'occasione per annunciare i suoi prossimi impegni professionali, entusiasta di tornare sul palco e di intraprendere nuovi progetti artistici. «Non vedo l'ora di condividere con voi le nuove avventure che mi aspettano», ha scritto. Con queste dichiarazioni, Marisol ha messo a tacere le speculazioni e ha confermato che la coppia non solo è ancora insieme, ma sta anche affrontando con positività i cambiamenti e le sfide che la vita e la carriera portano con sé. Il gossip si spegne, dunque, con la conferma di una relazione solida e la promessa di nuove emozioni sia per Marisol che per Petit, i quali continuano a concentrarsi sulle loro carriere e sulla loro vita privata lontano dai pettegolezzi. Con l'avvicinarsi della nuova edizione di Asterisco Amici Asterisco, è emerso un gossip riguardante una delle coppie formatesi nel programma, Petit e Marisol. A rompere il silenzio è stata proprio Marisol. Il cantante Petit, al secolo Salvatore Moccia, è spesso al centro dell'attenzione, anche grazie a una zia molto nota nel panorama dello spettacolo italiano, Nadia Rinaldi, attrice di successo soprattutto negli anni 90. Per il compleanno di Petit, Nadia ha scritto sui social, Amore di zia, tanti auguri di buon compleanno. Sei una persona speciale con una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni si avverino presto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste un legame di parentela tra Petit e Nadia Rinaldi. L'attrice è infatti la migliore amica della madre di Petit, Veronique. Con Veronique siamo amiche da sempre e viviamo entrambe all'Eura Roma. Quando è nato Petit, sono andata subito in ospedale per darle qualche consiglio. Lui è come un bambolotto per me. Ogni volta che lo vedo in tv, mi sciolgo e mi commuovo, ha spiegato Nadia. Questo legame ha fatto parlare di più di Petit, suscitando voci su una presunta crisi con Marisol. La ballerina, alla luce di queste speculazioni, ha deciso di chiarire la situazione. In risposta a chi chiedeva se fosse vero che si erano lasciati, Marisol ha commentato su Instagram. Ho visto alcune notizie su Twitter, ma ci sopportiamo ancora. Ha accompagnato la dichiarazione con una foto in cui fa una smorfia verso la telecamera, mentre Petit guarda fuori dal finestrino dell'auto. Così, con un tocco di umorismo, Marisol ha messo fine alle indiscrezioni. Marisol ha continuato a sottolineare la solidità della sua relazione con Petit, rispondendo ai fan e ai follower con toni rassicuranti. «Nonostante le voci, la nostra storia continua e stiamo bene insieme», ha aggiunto nei suoi aggiornamenti social. In un post successivo, ha condiviso un momento di intimità con Petit, pubblicando una foto di entrambi durante una gita al mare. «Grazie a tutti per il vostro affetto e le vostre preoccupazioni. A volte i rumors non riflettono la realtà. Siamo felici e concentriamo le nostre energie sui progetti futuri». Inoltre, Marisol ha approfittato dell'occasione per annunciare i suoi prossimi impegni professionali, entusiasta di tornare sul palco e di intraprendere nuovi progetti artistici. «Non vedo l'ora di condividere con voi le nuove avventure che mi aspettano», ha scritto. Con queste dichiarazioni, Marisol ha messo a tacere le speculazioni e ha confermato che la coppia non solo è ancora insieme, ma sta anche affrontando con positività i cambiamenti e le sfide che la vita e la carriera portano con sé. Il gossip si spegne, dunque, con la conferma di una relazione solida e la promessa di nuove emozioni sia per Marisol che per Petit, i quali continuano a concentrarsi sulle loro carriere e sulla loro vita privata lontano dai pettegolezzi.